Sono 250 le borracce che ieri sono state consegnate ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Donato Bramante a Fermignano. Un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra la scuola media, l'amministrazione comunale e l'azienda Midor, che punta alla sensibilizzazione dei più giovani sul tema dello smaltimento e riciclo di plastica e rifiuti. L'obiettivo, ha commentato il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi, è quello di risparmiare l'utilizzo di 50.000 bottiglie di plastica all'anno. Insieme a questa iniziativa, studiata con Ivan Calandra di Midor di Fermignano e insieme alla dirigenza scolastica, si vuole sensibilizzare i ragazzi per un uso razionale della plastica. Attraverso l'utilizzo di queste bottigliette termiche in alluminio verranno risparmiate circa 50.000 bottiglie di plastica all'anno, quindi per 250 ragazzi, il che vuol dire sensibilizzare in maniera profonda il nostro futuro, i nostri ragazzi che sono i cittadini del futuro, in un uso razionale della plastica, in un uso soprattutto consapevole, perché la plastica sappiamo tutti i tempi di degradamento che sono lunghissimi, e appunto per evitarne l'uso, lo spreco, il consumo, abbiamo dato ai ragazzi una borraccia che potrà essere potenzialmente eterna e che potranno utilizzare in tutte le loro attività, sia scolastiche che extrascolastiche. In questi quattro anni e mezzo abbiamo lavorato tantissimo per l'ambiente, siamo uno dei comuni più ricicloni delle marche, nel 2018 siamo stati il miglior comune per quantità di raccolta differenziata, quest'anno ci attestiamo circa l'81%, abbiamo riqualificato da un punto di vista energetico quasi tutte le strutture comunali, ad esempio siamo in questo momento in una scuola dove sono stati fatti sia un intervento sismico che energetico, che abbiamo riaperto a luglio, dopo un anno e qualcosa di lavori, quindi un intervento da quasi un milione e mezzo di euro che ci ha portato ad avere una scuola dalla classe G, quindi la peggiore classe da un punto di vista energetico, alla classe A, quindi una tra le migliori, e poi oltre a averla riqualificata da un punto di vista sismico, oltre ai vari impianti LED che sono stati fatti per la pubblica illuminazione, la riqualificazione energetica che inizierà a breve per quasi un milione di euro sul palazzo comunale, per non parlare poi del progetto massimo che stiamo per realizzare, che è la nuova scuola che è 5 milioni e mezzo di euro, la scuola più grande delle marche di edificio Enzeb, quindi una struttura energeticamente zero, a consumo zero. Sono 250 borracce, tutte in alluminio, nickel free, con vernice esterna atossica, dove praticamente i ragazzi possono usare all'infinito, e così riduciamo l'uso della plastica, perché ci sembrava comunque un argomento importante da affrontare, anche in virtù del Covid che ha un po' soppresso tutta questa sensibilizzazione all'uso della plastica, noi l'abbiamo voluto portare in primo piano, ecco, ci avevamo pensato un anno fa, però come poi ha detto il sindaco nella precedente intervista, la scuola non era pronta e lo stesso Covid ci ha fatto chiudere un po' tutto, quindi siamo arrivati lunghi, ma in realtà il nostro pensiero era stato tra i primi. Intanto iniziamo da questo piccolo gesto, poi abbiamo fatto anche un bigliettino attaccato a loro, dove c'è scritto un piccolo gesto per aiutare il pianeta, aiutaci anche tu a ridurre l'uso della plastica, dove comunque li sensibilizziamo. E in più abbiamo promosso il nostro punto vendita con uno sconto del 10%, qualora i genitori o gli alunni venissero nel nostro punto vendita, dove abbiamo tutti i materiali ecocompatibili senza plastica. Quindi è questa l'iniziativa al momento, siamo da 38 anni vicini al territorio e sensibili all'ambiente. Io ringrazio dell'iniziativa Midor e il sindaco e tutta l'amministrazione di Fermignano per questa iniziativa e per la sensibilità nei confronti della scuola e soprattutto degli alunni. Quest'iniziativa promuove il non utilizzo della plastica ed un servizio igienico nell'acqua ottimo per la popolazione e in questo caso degli studenti.